che di Carlo Musa, allenatore di S, stanno aspettando una telefonata da parte dell'ingegnere Gianandria De Cesare che ancora non è arrivata. Il silenzio dovrebbe essere rotto nei prossimi giorni, visto che il tempo passa e sprecarlo sarebbe davvero un peccato. Tutto gira intorno alla loro riconferma. Nel momento in cui arriverà la situazione sarà più chiara e soprattutto si comprenderanno gli obiettivi e il budget, così come si capirà se Musa sarà affiancato da un direttore generale di esperienza oppure no. Rumors parlano sempre di Salvatore di Somma che però nega ogni contatto con il club bianco-verde. Io non sono stato chiamato da nessuno, ma mai mi hanno chiamato, non lo so. Settore giovanile si va verso la riconferma di Dario Rocco come responsabile, campagne abbonamenti, ci saranno di nuovo prezzi scontati per chi sottoscriverà quello di calcio e basket insieme e ritiro, oltre il Trentino e l'Umbria si valuta anche una sede nelle Marche, sono le priorità. Insieme allo Stadio Parteneo Lombardi da Palazzo di Città fanno sapere che è pronta la delibera per l'utilizzo dell'impianto da parte della Calcio Avellino SSD entro lunedì, visto che è il termine ultimo fissato dalla Lega Pro, ma per la convenzione è probabile che si aspetti l'insediamento di Gianluca Festa come nuovo sindaco, che però lo stadio lo vuole realizzare nuovo. Per quanto riguarda i lavori necessari all'iscrizione, il settore lavori pubblici si sta contabilizzando il costo degli interventi, 40.000 euro sono già pronti per il terreno di gioco, poi bisognerà potenziare il sistema di videosorveglianza, quello di illuminazione, senza dimenticare alcune caldaie che vanno sistemate e soprattutto le poltroncine che vanno installate in tribuna Montevergine Laterale e Terminio. C'è tempo fino a febbraio, difficile che il Comune di Avellino intervenga in modo tempestivo se non trova prima le risorse in bilancio.